Sul tema lavoro ovviamente dedico il 90% del lavoro mio e di tutti i parlamentari della Lega. Ci sono alcuni settori, sentivo il direttore Brambilla che stimo e saluto, che non hanno problemi di licenziamento ma hanno anzi l'esatto contrario del problema, quello di non trovare mano d'opera, la manifattura, l'industria, l'edilizia, quindi da fine giugno possono tranquillamente tornare senza vincoli sul mercato, anzi il problema è la mancanza di mano d'opera e fra le altre proposte la Lega chiede la reintroduzione dei voucher, del lavoro a tempo, perché è meglio un lavoro a tempo che la disoccupazione e va fatta anche una riflessione dopo un anno e mezzo di Covid sul significato e l'efficacia del reddito di cittadinanza, perché molti imprenditori da nord a sud, sono stato a Tropea proprio domenica, lamentano il fatto che si sentono dire troppi no da coloro ai quali propongono un posto di lavoro per la stagione estiva, perché la risposta è mi conviene tenermi 500 euro e stare a casa a guardare gli europei di calcio. Non è che c'è anche il tema che magari qualcuno paga poco, gli stagionali? No, no, ci sono dei contratti e non ci sono gli imprenditori sfruttatori, molto semplicemente se tu prendi 600 euro per stare a casa a guardare la televisione e ti offrono 600 euro per andare a fare il cameriere, la soluzione la lascio intuire, quindi parlo di revisione di un sistema che era stato creato per portare nuovo lavoro, che invece in questo momento porta via lavoro.